Inchiostro Caffè E quindi tipo questo video e anche il video dell'altra volta erano relativamente vecchi e non avevo ancora capito che per fare i video dovevo necessariamente legarmi i capelli. Quindi sì, ci sono i miei capelli sullo schermo. E l'altra cosa che c'è sullo schermo è un mio look basato su un look di Kennedy Davenport, se vi interessa. Ma ora iniziamo direttamente con l'argomento del video, ovvero qualcosa che tantissimi artisti fanno, soprattutto quelli giovani e inesperti, come se anche io non fossi giovane e inesperta, però questa cosa non la faccio, ve lo prometto, ovvero odiare profondamente i propri disegni. Cioè tutti quanti conosciamo o siete una di quelle persone che ogni volta che disegna qualcosa dice che quella cosa in realtà fa schifo e la odia. E ovviamente ci sono diverse cause per questa cosa. C'è una tendenza di alcune persone che magari non pensano davvero che fa schifo, però dicono che fa schifo perché così i loro amici vengono a dirgli che non fa schifo perché gli servono dei complimenti. Ora, questa cosa in realtà non la vedo spessissimo, però esiste. Se siete quelle persone, smettetela. Ma ora passiamo a dei motivi un po' più seri. Perché c'è ovviamente delle persone che credono ovviamente che quel disegno fa schifo. Cioè non è che dicono per scherzare, oh oh, fa schifo. No, no, loro credono che fa schifo. Sono delle persone che credono di non essere a livello giusto per magari la loro età, a livello giusto per il punto in cui stanno, nella loro vita. Pensano magari, ah io ho tot anni, disegno da tot tempo, devo essere a questo livello e invece non ci sono. E per questo pensano che tutto quello che fanno fa schifo. E poi un altro motivo per cui le persone dicono che fa schifo è tipo timidezza. Quindi te in realtà non è che pensi veramente che quella cosa fa schifo al 100%, però non vuoi neanche vantarti del fatto che ti piace. E quindi se qualcuno ti dice che è bello, ti dici no, no, a me fa schifo. Quando magari è un disegno normalissimo, però te non vuoi far sembrare che sei quella persona che si vanta e quindi menti praticamente. Cioè magari te neanche sai di mentire, menti a te stesso dicendo che fa schifo quando non è vero e sei solo troppo timido per dire sì, mi piace tantissimo questa cosa che ho fatto. Ma ora parliamo un po' di me anche perché negli ultimi due video non sono stata abbastanza egocentrica. Ho parlato solo di fan art, non ho parlato delle mie esperienze fantastiche. Quindi io non sono una persona che odia i propri disegni. Forse quando avevo appena iniziato mi succedeva di dire che schifo questo disegno. Però in realtà poi col tempo sono un po' maturata e ho capito che è inutile dirsi di tutti i disegni mi fanno schifo. Per una serie di motivi. Sia perché, cioè, è proprio una cosa inutile dirsi che fa schifo. Perché non è che quando te ti dici questa cosa fa schifo al 100%, capisci quello che devi effettivamente fare per migliorare. Cioè quella cosa è persa, fa cagare e quindi cosa devi migliorare? Non lo so tutto, niente. Invece se magari uno si sofferma effettivamente a vedere cos'è di questa cosa che mi fa schifo, cos'è invece che mi piace, potete trovare i vostri punti deboli e capire dove migliorare. Cosa che effettivamente se vi dite tutto fa schifo non riuscite a fare. E poi un'altra cosa, cioè sulla faccenda della timidezza. Ovvero che a me dà tantissimo fastidio quando la gente ricevuta i complimenti. Cioè forse era una cosa che facevo anche io all'inizio con i disegni, ma a un certo punto diventa proprio fastidioso sinceramente, perché tipo io vengo lì a dirti che sei bravo e ti mi dici no, come no, ti ho detto di sì, accetta il complimento, dici sì, sono bravo, grazie per il complimento, mi piace molto questa cosa che ho fatto, perché a me dà tantissimo fastidio questa tendenza che noi non possiamo essere contenti delle cose che ci vengono bene. Cioè ogni volta che fai una cosa, anche se in realtà bene o male sai che è andata bene, e ti dici no, no, fa schifo, di sicuro fa schifo. No, è bellissima, va bene, devi stare zitta a accettare il mio complimento. Infatti c'è, se qualcuno vi fa un complimento, cioè non dite che fa schifo, anche se lo pensate che fa schifo, anche se secondo me, cioè dai, veramente pensate che fa schifo. Non dite no, non è vero, non mi piace, perché è veramente fastidioso, mettete anche la persona che vi fa il complimento in una cosa di imbarazzo, perché o deve continuare a complimentarvi finché dite ok, è bello, cioè è veramente, non c'è una via di uscita. E comunque se continuate a dirvi che fa schifo, anche se non lo credete al 100%, finirete per crederlo, e finirete per credere davvero che la vostra roba fa schifo. Quindi, se vi faccio un complimento, devi essere contento e non devi dirmi che fa schifo, va bene? Anche perché se una persona che è meno brava di voi vi fa un complimento, e voi rispondete no, fa schifo, quello si pensa, beh, se gli fa schifo questa cosa bellissima, pensa cosa, pensa dei miei disegni di merda, faranno proprio cagare al 100% se a lei fa schifo la sua di roba. Quindi, veramente, dire agli altri che le vostre robe fanno schifo, non c'è un allato positivo in tutto ciò, non c'è qualsiasi cosa che giustifichi dire agli altri, no, mi fa schifo, perché veramente c'è una via di mezzo fra dire mi fa schifo e andare da tutti con il proprio disegno a dire guarda quanto è bello, fammi complimenti, cioè c'è una via di mezzo, puoi dire, oh, vabbè, questa volta mi è venuto bene, sono contento, non rifiutate i miei complimenti, va bene? E invece, ritornando su cose, tra virgolette, serie, se veramente vi fanno schifo le vostre cose, cioè, magari voi non vi sentite al livello giusto, al momento giusto, ma quello che dovete sapere è che tutti gli artisti non si sentono al livello giusto, al momento giusto, cioè, non penso di aver mai visto un artista al 100% soddisfatto di quello che fa, perché alla fine tutti quanti, magari sappiamo fare 30 cose, ma invece di pensare, ah, beh, so fare 30 cose, pensate, ah, ce ne sono 200 che non so fare, faccio cagare, non so perché non riesco a fare, che ovviamente, cioè, è una mentalità comune a tanti tanti artisti, però non serve a niente, perché alla fine si sente sempre in difetto rispetto a questa cosa che noi dovremmo riuscire a fare e è difficilissimo sfondare e arrivare al momento in cui ci sentiamo soddisfatti, perché effettivamente ci saranno sempre 200 cose che non sappiamo fare, cioè, magari sapete fare benissimo i colori, però dite, cavolo, però questa cosa dello sfondo non ne sono riuscita ancora a farla bene, e quindi fa schifo, cioè, mi rendo conto che è difficile rendersi conto delle cose che facciamo bene, quindi in realtà il modo migliore per liberarsene, secondo me, di questa cosa di fa schifo, fa schifo, quando in realtà, cioè, non è vero che fa così schifo, prima cosa è rendersi conto del fatto che effettivamente, cioè, non è vero che fa schifo, cioè, che siamo noi che ci mettiamo un'idea di quello che dovremmo essere e che magari è un'idea stupida, è un'idea che ci siamo fatti ma che non ha senso rispetto a quello che stiamo facendo, cioè, nel senso, magari voi dovreste avere chiaro il punto dove dovete arrivare, però dovete anche sapere che non è sempre facile arrivarci, nel senso, se voi volete disegnare come Leonardo da Vinci e in questo momento disegnate stile cartoon, è ovvio che tutte le cose che fate non vi piacciono, perché nel cervello avete in mente la Mona Lisa e voi state disegnando Steven Universe, che magari lo state facendo benissimo, però se il vostro ideale di quello che dovreste fare è diverso da quello che state facendo, ovviamente quello che fate non vi soddisfa, quindi l'unica cosa da poter fare è cercare di fare dei passi in quella direzione, in quel punto ideale in cui vorreste essere e cercare di migliorare, ricordandosi però sempre che non è che puoi migliorare da un disegno all'altro, è difficile che te vedi un disegno di ieri e un disegno di oggi e vedi un miglioramento, perché i disegni migliorano veramente dopo tanta tanta pratica, dopo tanto tanto tempo, quindi a volte per arrivare a quel punto magico che secondo me è il punto ideale dove dovremmo essere, che poi non esiste veramente questa cosa, perché ogni volta quando arriverete a quel punto ideale in cui dovevate essere due anni fa, avrete un altro punto ideale in cui arrivare, quindi alla fine è anche divertente dell'arte che dovete sempre migliorare, non c'è mai un punto in cui vi fermate e dire, oh, fatto, ora sono perfetto, quindi dovete rendervi conto che per arrivare a quel punto ideale in cui secondo voi vorreste stare, comunque ci vogliono tanti passi e il fatto che secondo voi ci state mettendo troppo tempo, non vuol dire che non ci state arrivando, quindi se in questo momento vi fa schifo la roba che fate, non vuol dire che non state migliorando, non vuol dire che state arrivando sempre più vicino a quell'obiettivo che vi siete posti, e un'altra cosa molto importante secondo me è non fare troppi paragoni con gli altri artisti, perché ogni volta che fate un paragone con un altro artista ne uscite perdenti, cioè ve lo dico, io sono una che fa i paragoni in realtà, ed è difficile non farli, perché ogni volta che vedete un altro artista ovviamente direte, oddio, questo è bravissimo a fare questa cosa, io faccio schifo, e in realtà a me capita particolarmente non con artisti più bravi di me, perché a volte sono tipo, eh vabbè, lui ha fatto la scuola di arte, quindi è già avanti, eh vabbè, questo, ho fatto questo, quindi io di solito mi sento in difetto con le persone più piccole di me, cioè se una persona, che ne so, ha 14 anni e disegna, ma neanche benissimo, però disegna meglio di quanto io disegnavo a 14 anni, sono tipo, wow, ho tipo sprecato tutta la mia vita a disegnare male, e a 14 anni non ero affatto brava così, questo sta molto più avanti di me, e ora io ho già 21 anni, non ho 21 anni, oh mio Dio, perché sono così vecchia? Ho 20 anni, io ora ho già 20 anni, e non arriverò mai, perché sono più lenta di questo qui, che a 14 anni sta già a questo livello, ma tutte queste cose che noi immaginiamo nel nostro cervello sono completamente finte, perché te non puoi paragonarti esattamente a un'altra persona, perché non sai quella persona che storia ha, che tipo di miglioramenti fa, quanto lavora, quindi magari voi vedete questa persona che ha 14 anni e vi sembra più brava di quanto voi fosse a 14 anni, però se questa persona nei 4 anni successivi non fa niente, non migliorerà, e invece voi magari a 14 anni eravate delle ciofeche, però dai 16 ai 18 anni avete lavorato tantissimo e siete migliorati tantissimi, molto di più di quanto quella persona migliorerà nei 4 anni, non so se mi spiego. Quindi è inutile paragonarsi così esattamente a un'altra persona, soprattutto per l'età, per il livello che hanno raggiunto a un certo punto della loro vita, perché non possiamo fare un paragone proprio uguale fra noi e un'altra persona. E soprattutto su questo argomento di odimi i disegni, io una cosa che voglio dire a tutte le persone che mi seguono, soprattutto se siete una persona che odia i vostri disegni, è smettetela di buttare i vostri disegni, smettetela di strappare i vostri disegni, di bruciare i vostri disegni, di buttarli dalla finestra, di accartocciarli e lasciarli in una pila di cose che brucerete in un falò per l'estate. Non fatelo, mai. Perché anche se quel disegno ora vi fa cagare, è comunque un passo in una direzione. E se voi eliminate tutti i passi che avete fatto, quando fra due anni vorrete vedere ma due anni fa cosa stavo facendo, non potrete farlo, e quindi vi ricorderete che disegnavate male, e il vostro ricordo sarà solo ah sì, due anni fa disegnavo male. Invece se voi li tenete, potete tornare indietro e dire cavolo ma questa cosa faceva schifo effettivamente, però c'era già qualcosa del mio stile attuale che vedo qui, qualcosa che mi sono portata, qualcosa che ho migliorato, oppure potrete vedere ah vede questa cosa facevo schifo due anni fa, invece ora sono abbastanza migliorata, magari non tantissimo, magari non è che siete diventati veramente l'artista di chissà cosa, però potete vedere effettivamente cosa è successo in quei due anni. E secondo me è una cosa interessantissima, è una cosa che ti può anche far stare bene in quel momento con il tuo stile, perché effettivamente in questi due anni sono migliorata, sono arrivata da qualche parte, non sono rimasta una schifezza che pensavo di essere rimasta. Perché poi è una cosa sempre in comune di molti artisti, che noi non vediamo quando miglioriamo, proprio per questa cosa che ogni volta ci sembra che ci manca un pezzo. Cioè noi dobbiamo apprezzare un po' di più nel fatto che abbiamo fatto dei passi, ed effettivamente siamo migliorati, anche se lì per lì non ce ne siamo accorti, perché il miglioramento è stato ovviamente lento, e quindi non ti accorgi ogni passo cosa succede, però poi se torni dietro di due anni te ne rendi conto. È come quando incontri i tuoi parenti dopo cinque mesi, quando c'hai 14 anni e ti dicono che sei diventato altissimo. A me questa cosa non è mai successa, perché sono sempre rimasta a basso dalla quinta alimentare, però. Vabbè, immaginate che sia diventata alta in seconda media, e i vostri parenti ti dicono, wow, quanto sei diventato alto, e te sei tipo, veramente non l'hai notato? Beh, grazie non l'hai notato, ti vedi ogni giorno allo specchio, sei alzato soltanto di un micron ogni giorno, e quindi non te ne sei accorto che ti sei alzato, ma uno che ti vede prima a febbraio, e poi a giugno se ne accorge che ti sei alzato. E questa è la stessa cosa con i disegni. Anzi, fatemi sapere nei commenti, se volete vedere un po' dei miei disegni vecchi, perché ho qualche idea di farvi vedere i miei sketchbook e insultarmi pesantemente. Anzi, non fatemi sapere nei commenti, lo farò e basta, perché questo è il mio canale, decido io quello che devo fare. E va bene, a parte questo, questa è la fine del video. Spero sia durato un po' di meno di quelli precedenti, perché non so chi si vede effettivamente 20 minuti di video di seguito. Però, insomma, se siete delle persone che odiano i propri disegni, magari commentate, scrivetemi, oppure potete anche andare sul mio Instagram, che se non ve lo ricordate, dopo tutte queste puntate, è ciacciapandabaffuto. E potete anche mandarmi un vostro disegno e dirmi, mi fa schifo, e io posso dirvi, no, queste cose potresti migliorare, e invece queste cose sono bellissime, e quindi smetti di odiarti da solo, per favore, perché non ti fa bene odiarti, va bene? Poi siamo tutti amici, ci vogliamo tutti bene, a meno che mettete i watermark sui disegni, però quello è già un video del passato, non fatemi ritornare su queste cose. E per il resto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!